8 famiglie senza acqua da due giorni dopo la chiusura senza preavviso del contatore del Civico 8 di Via Verdi a Montesilvano con l'amministratore del condominio, una situazione incresciosa e questa mattina farete qualcosa per cercare di sbloccare questa situazione? Sì, il condominio hanno ridotto, loro chiamano riduzione ma è una chiusura totale dell'acqua per un debito di 802,46 centesimi il preavviso c'è, cioè con le raccomandate loro comunicano queste cose, poi effettivamente quando vanno a fare l'operazione non lo sa nessuno perché mettono un cartello nel contatore che è chiuso, quindi nessuno vede nulla e praticamente loro dovrebbero garantire, l'ACA dovrebbe garantire 50 litri di acqua pro capite a persona non chiedono né il numero dei residenti nel condominio e quindi arbitrariamente fanno questa operazione ieri hanno, per i condomini da me amministrati, hanno distaccato a tre condomini e penso che sia una situazione per tutti gli amministratori siccome è una situazione che dovrebbe avere un'evoluzione, noi adesso vi faremo vedere quanta acqua esce dai serbatoi entra nel serbatoio e poi poiché loro commettono un reato perché dovrebbero escutere i morosi la morosità del condominio è legata alla morosità dei condomini, la normativa impone che loro agiscano nei confronti dei morosi ma non lo fanno, adesso loro commettono un reato e lo commetterò anche io Avete contattato l'ACA? Sì, io ho contattato l'ACA ieri mattina, però non c'è ragione, niente, loro fanno quello che vogliono così E qui ci sono delle persone che sono senza acqua da ieri? Sono due giorni che sono senza acqua Parliamo di otto famiglie? Otto famiglie, saranno 20-30 persone, quindi moltiplicate per 50, quello che dovrebbero dare e che non danno Lei parlava di questo debito di 802 euro, però nei mesi scorsi, negli anni scorsi, in questo condominio c'erano state delle morosità più alte? Ci sono tuttora nelle altre palazzine e sono legate a un condomino di etnia rom E quando distaccarono l'ACA due anni fa i condomini di quella palazzina chiesero di non riattivarla Proprio perché volevano spingere questa famiglia a pagare L'ACA accordò una rateizzazione di 50 euro al mese, quindi facciamo sempre due pesi e due misure Vi siete rivolti anche ai carabinieri? Sì, ai carabinieri, già dal 2012 io commissi il reato di togliere il sigillo Ma probabilmente io non capisco la motivazione, adesso vorrei che qualche magistrato tirasse fuori tutte le carte Perché ha un reato, noi dobbiamo rispondere purtroppo con il certo